Due ore di riunione a porte chiuse all'auditorium di Alzano Lombardo, così sindaci, segretari di sezione e dirigenti del Carroccio hanno presenziato all'incontro con Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega Nord, che ha predisposto il piano organizzativo dei prossimi mesi. I rapporti con la regione da gestire, rinnovo dai segretari di circoscrizione, le gazebate e il congresso provinciale che dovrà designare il successore di Cristian Invernizzi sono stati i temi in discussione. Un incontro molto bello con 50 sindaci e tanti vice sindaci e amministratori locali della Bergamasca con problemi molto concreti, dalle case popolari alle strade alle aziende che chiudono, alle slot machine che rovinano le persone, ai nomadi e ai clandestini che sono un problema e un costo, con la Lega che si impegna a dare risposte con Maroni in regione facendo alcune battaglie comuni, quindi sono venute fuori tante idee, tante proposte e vediamo di tornare a fare la Lega presente in tutte le piazze. A partire già dal prossimo fine settimana sull'immigrazione clandestina. L'attenzione ora rivolta alla conferenza Stato-Regioni in programma nei prossimi giorni, quando si potrà avere certezze sulla gestione di entrate e uscite. Ci sono dei sindaci della Bergamasca che non sanno come aprire a settembre la scuola materna, l'asilo nido o la casa di riposo. E non è possibile, siccome qua i soldi ci sono. Parlava il sindaco di Caravaggio, a Caravaggio pagano 57 milioni di euro di tasse i cittadini e le imprese e da Roma torna indietro meno di un milione. Vuol dire che dalle tasche di chi vive a Caravaggio spariscono 56 milioni di euro. Quindi o con le buone maniere si trova un riequilibrio col nuovo governo, oppure vedremo di essere un po' più maleducati e di alzare i toni. Salvini ha poi commentato la mattinata di follia a Milano, dove un uomo di 31 anni, originario dal Ghana, ha aggredito a colpi di piccone 5 passanti. Chiaro che è un caso di follia, non è imputabile politicamente, è colpa di Tizio, è colpa di Caio, perché è un matto che alle 6 della mattina viene in giro col piccone e lo dà in testa alla gente. Non è prevenibile. Purtroppo piangiamo qualche morto in più.